Gentili telespettatori, buona giornata. Interviene, come spesso ha fatto, Rita dalla Chiesa sulla politica italiana e parla probabilmente della peggiore trasmissione di politica che c'è in questo momento, quella di Formigli Piazza Pulita, che ha intrapreso la sua campagna personale per tentare di aiutare una sinistra senza idee che non riesce a racimolare qualche elettore in più. Ci sono questi giornalisti che dicono adesso ci penso io a far capire alla gente che meglio votare il nulla che c'è nel PD che votare gli impresentabili del centrodestra, quindi la mette su un piano di questo tipo. Capisco che nel PD non c'è nulla, è una scatola vuota, però meglio votare una scatola vuota che degli impresentabili Salvini e Meloni. Questo è il filone della battaglia personale di Formigli contro il centrodestra. Voi dite ma è un giornalista, cosa c'entra? In Italia non è che c'è il giornalista che fa delle domande, che pone dei quesiti, no, in Italia il giornalista è una specie di antagonista del politico, è un nemico del politico di turno, una volta questo, una volta quello, quindi è un giornalismo televisivo un po' particolare. Questi conduttori televisivi alla Formigli sono delle sorte di politici non politici che hanno il potere di una trasmissione vista da centinaia di migliaia di persone di indirizzarsi contro esclusivamente una parte politica. Interviene, diciamo, anche Rita Dalla Chiesa. Dice questo lo abbiamo capito che cos'è. Intanto Guido Crosetto lascia lo studio di Piazza Polita. Il fondatore di Fratelli d'Italia da tre anni lontano dalla politica dice guardate io me ne vado, sono andato proprio via dalla politica schifato, mi allontano, scusate, mi scuso con la trasmissione ma ho sbagliato io a venire qui. È andato via in maniera molto elegante Crosetto, in maniera molto molto elegante. A prendere le difese tramite un tweet è proprio ai danni della trasmissione di La Sette e Rita Dalla Chiesa che dice ha ragione Guido Crosetto, una persona per bene, una persona per bene Crosetto. Di fronte a tutto questo odio, odio in malafede, e l'abbiamo capito tutti. Eh sì, Rita Dalla Chiesa, lo abbiamo capito tutti, almeno probabilmente quasi tutti hanno capito che c'è un atteggiamento in malafede, nel senso che tu sei un giornalista che hai una trasmissione, la imposti in malafede. Cosa vuol dire in malafede? Che tu a prescindere da tutto quello che si dice nel contesto politico, a prescindere da quello la tua trasmissione è impostata nel mettere in risalto solo le cose che non vanno bene e non parlare minimamente di tutto il resto. Fare un collage del peggio e mostrarlo ogni settimana. Questo è il peggio, questo è il peggio, questo è il peggio, questo è il peggio. Quando poi gli altri partiti hanno la stessa quantità se non di più di cose dubbie. Come diceva Sallusti a Formigli, come? Ma nel PD ci sono oltre mille persone arrestate, mille politici del PD arrestati negli ultimi anni. Uno l'hanno arrestato proprio ieri in campania per tangenti, ma perché non fai una bella trasmissione sulle tangenti del PD? Perché non racconti che Letta è un tangentaro, visto che stai facendo passare il messaggio che se forse qualcuno in periferia di Fratelli d'Italia ha preso una tangente, allora Giorgia Meloni diventa impresentabile col suo partito. Avete capito quello che vi sto dicendo? Giorgia Meloni diventa impresentabile perché c'è un tizio a Milano che prende una tangente, mentre Letta con i mille e cinquanta arrestati nessuno dice niente. Quella del PD è una notizia, quella di Giorgia Meloni è una notizia, come dice Sallusti sono notizie, però tu parli di una notizia e ometti l'altra, ed è la notizia di cui parli la sovraccarichi per rimarcare che è un partito di impresentabili. E Giorgia Meloni rita dalla Chiesa, lo dice, è un odio in mala fede, l'abbiamo capito tutti. Crosetto, una persona per bene. Brutto, dice la Rita dalla Chiesa, brutto tutto questo odio. Eh sì, sì Rita, ma vedrai che tutto questo aumenterà. E come se aumenterà? Siamo all'inizio, attenzione, abbiamo non so quante settimane, settanta, ottanta settimane prima di un'elezione politica, ma sapete cosa tireranno fuori tutti i vari formigli? Perché formigli è uno. Poi ci sono tutti i vari formigli in televisione e tutti i vari provenzano in televisione che vorrebbero togliere dalla politica Fratelli d'Italia. Ecco, abbiamo una sorta di estremismo di sinistra che era latente e che sta venendo fuori in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza oscura. Come parlo bene, mi vengono i brividi, eh? Mi piace, eh? Mi piaccio da solo. Come diceva Gerry Calà, non sono bello, ma piaccio. Vabbè, sto scherzando ovviamente, no? Vedo già in qualcuno di voi il disprezzo che scriverà sei un mostro, un mostro. D'altronde, da settimane, casualmente a pochi giorni dalle amministrative, Piazza Pulita continua la propria battaglia contro Fratelli d'Italia. Ebbene, Formigli è un paladino, un cavaliere della sinistra. Lui combatte il centrodestra. Mi dico io, ma Silvio, ma tu non trovi un Formigli che faccia tutte le settimane su Canale 5, Italia 1. Tutte le settimane una trasmissione contro il PD con infiltrati, tangenti, arresti. E caspeterina. A mali estremi, estremi rimedi. Nel senso che il giornalismo di Formigli non è corretto. A questo punto, visto che non si può fare niente, Formigli andrà avanti all'infinito. Silvio. Tanto vale restituì dare con la stessa medaglia quello che fa la sinistra, con le sue articolazioni nei media. Silvio. Pier Silvio. Pier Silviuccio caro. Non ti offendere se ti chiamo così. Eh, scusa, metti un Formigli anche tu a Mediaset, perché del debbio Porro e l'altro, come cavolo si chiama, e Giordano, sono dei bonaccioni alla fine. Questi tre non riuscirebbero a essere come Formigli. No, sono troppo buoni, perché il giornalista di centrodestra alla fine è un bonaccione, non riesce ad aggredire l'altra parte politica. Magari, se voi guardate queste trasmissioni, si pongono delle domande e poi si fanno rispondere gli ospiti. Le si fanno in un certo modo. Non c'è mai una metodica aggressione per ore in prima serata. Non lo troverete in Porro del debbio Giordano. Allora mi chiedo io, visto che io reputo il giornalismo di Rete 4 corretto, e quello di Formigli incorretto, a questo punto, visto che Formigli non lo ferma nessuno, io direi a Mediaset, mettete un Formigli in senso opposto. Sapete che se c'è una forza, una freccia, no? Tu per contrastare questa forza gli devi mettere una freccia uguale, no? Se no, è squilibrata. Addirittura se non c'è una freccia opposta, Formigli fa così tutte le settimane. Mettete un Formigli di destra contro la sinistra in modo da riequilibrare. E poi, se dovesse arrivare un Formigli di destra su Rete 4, immaginatevi che cosa direbbe la sinistra? Direbbe che le televisioni di Berlusconi sono fuori dall'arco democratico, andrebbero chiuse, vorrebbero fare una mozione per cancellare le televisioni private in Italia perché bisognerebbe andare... Insomma, è tragicomica la situazione italiana, nel senso, a me fa ridere, ma realmente la situazione del sistema di informazioni in Italia, i media, come li chiamano, qualcuno li chiami i media, chiamateli come cacchio volete, è una situazione alquanto particolare, se mi permettete il termine. Arrivederci a tutti.